200 studenti siciliani sono bloccati a New York da una tempesta di neve. Gli studenti di scuole medie, superiori e università provenienti da tutta la Sicilia erano arrivati a Manhattan lo scorso 16 marzo per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite. E sarebbero dovuti ripartire ieri, ma l'arrivo dell'ondata di gelo ha bloccato la East Coast dove sono stati cancellati oltre 3.800 voli. Noi li abbiamo qui in diretta via Skype a Ultima TG. Siamo in collegamento con alcuni di questi ragazzi. Ciao ragazzi! Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto io desideravo farvi i complimenti perché so che due di voi, Damiano Di Giovanni e Andrea Denaro, avete vinto the best position paper su 118 paesi. Il vostro è stato il migliore, quindi due catanesi che portano una grande soddisfazione a casa. Sì, sicuramente torniamo a casa con la soddisfazione di aver lavorato bene e che sicuramente i sacrifici verranno sempre ripagati. Certo, chiaramente c'è il rammarico del volo che è stato annullato, è stato posticipato, però diciamo che da un lato possiamo anche vederlo come un lato positivo perché siamo in una città bellissima, meravigliosa, uguale New York e quindi comunque se torniamo a casa soddisfatti. Ragazzi, raccontatemi quello che sta succedendo dal punto di vista meteorologico a New York. Siete praticamente bloccati, com'è lì la situazione? Sì, ora oggi non sta più nevicando, sta migliorando però il tempo, ma fino a ieri eravamo in una vera e propria bufera. Infatti il sindaco l'aveva definita come bufera del secolo perché avevano chiuso diversi aeroporti, non solo a New York ma anche a Washington DC, Boston, Philadelphia e altre città importanti degli Stati Uniti. Sì, all'Italia adesso ci sta fornendo nuovi voli, quindi dovremmo tornare tra oggi, domani e dopodomani. Quindi ancora non sapete quando? No, no, perché essendo 200 studenti è complicato fare un unico volo e quindi ci stanno dividendo in più voli per tornare a casa. È vero che siete costretti a prolungare a vostre spese le vacanze, tra virgolette? Sì, stiamo pagando. Purtroppo sì, ma non diciamo che c'è poco da fare, a questo punto dobbiamo prendercela col tempo. Sì, ma comunque c'è garantito all'Italia che risarcirà tutte le spese, soprattutto quelle dei pernottamenti e dei passi. Siete 200, tutti in uno stesso albergo, i siciliani? Sì, sì, sì. È arrivato hotel di Manacca. Tra l'altro bellissimo hotel, perciò ci stiamo trovando benissimo qua. Ragazzi, voi avete rappresentato l'Italia e in particolar modo la Sicilia all'ONU. La vostra esperienza velocemente? Sicuramente è qualcosa di veramente bellissimo avere l'opportunità di confrontarsi con altre persone, la maggior parte tra l'altro anche straniere. essere tutti quanti, diciamo, uniti da questa cosa in comune che era quella di parlare in inglese. Io e Damiano sicuramente ci siamo anche divertiti, perché è stato anche, diciamo, un divertimento poter dialogare e fare anche nuove amicizie, perché le stesse persone che vivevamo la mattina erano le stesse con cui dormivamo la sera, più o meno in hotel. E inoltre abbiamo conosciuto anche tanti personaggi importanti, faccio i nomi, Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor, oppure Carlo Ancelotti, il grandissimo mister, e anche Bill Clinton, è stato ospite in una rappresentazione, in una conferenza che abbiamo avuto al Palazzo dell'ONU. Quindi sicuramente torniamo a casa contenti e comunque sia anche ancora aggasati dal momento, da ciò che abbiamo appena vissuto, perché ancora, diciamo, che è difficile da realizzare, aver conosciuto così tante persone importanti nel giro di due o tre giorni. Ragazzi, noi vi ringraziamo, ovviamente le vostre famiglie vi stanno seguendo, sono ovviamente tranquilli perché vi sentono via WhatsApp e quindi sanno che la situazione è sotto controllo. Certamente ci rendiamo conto che è una situazione difficile, essere bloccati ancora, non si sa per quanto tempo, da una andata di gelo che ha bloccato tutta l'East Cost, sono cancellati oltre 3.800 voli. Ci auguriamo di potervi avere di nuovo presto qui in Sicilia.